Vediamo insieme quali sono, secondo noi, le migliori auto del segmento D usate. Prima di tutto, cosa significa segmento D? Sono tutte quelle auto di lunghezza dai 4 metri e mezzo ai 5 metri. Per cui non è una questione di tipologia, esistono berline di segmento D, SUV di segmento D, station wagon di segmento D, ecc. Sono le auto cosiddette lunghe, quelle spaziose e spesso confortevoli. Le auto di rappresentanza di solito sono sempre di segmento D, come tutte le SW Premium. Andiamo a scoprire insieme la classifica delle migliori auto del segmento D usate. Alfa Romeo Giulia BMW Serie 3 Mercedes classe C, BMW Serie 5 Mercedes classe E, Audi A5 Sportback Audi A4 BMW Serie 4 Gran Coupe Maserati Ghibli Volkswagen Passat Alfa Romeo Giulia. Primo posto nella nostra classifica delle migliori auto del segmento D usate e KM0 per Alfa Romeo Giulia. La classica berlina 4. Porte molto sportiveggiante dalla linea affascinante ed elegante. Abbinata a una gamma di propulsori diesel e benzina potenti, fino a 510 cavalli per la versione quadrifoglio, l'auto si presenta con interni ben rifiniti e marcatamente sportivi. Le più aggiornate sono sicuramente le vetture KM0 dopo l'aggiornamento 2020, con numerose novità sia per l'infotainment che dal punto di vista dei sistemi o DAS. Sul nostro sito puoi trovare molte offerte per Alfa Romeo Giulia usate. BMW Serie 3. Secondo posto nella nostra top 10 per l'amatissima BMW Serie 3, considerata tra le auto sportive di segmento D per eccellenza, chi sceglie la sua ultima generazione, magari KM0, acquisterà una vettura dal design decisamente ben riuscito che, come da tradizione, punta molto sul piacere di guida e sul feeling tra auto e pilota, senza però rinunciare al confort di altissimo livello. Su Brum Brum trovi BMW Serie 3 usate e garantite, scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Mercedes Classe C La Mercedes Classe C è la berlina per eccellenza e per questo motivo sale sul podio della nostra classifica, si tratta infatti di una vettura del segmento di condimensioni che le permettono di ricoprire sia il ruolo di auto da rappresentanza che quello di quattro. Porte da famiglia, essendo comoda e lussuosa. Notevoli anche gli interni, dove spicca la presenza di finiture e materiali eleganti e di qualità. Vorresti una Mercedes usata? Vieni a trovarci su Brum Brum. BMW Serie 5. Quarto posto in classifica per la BMW Serie 5, una lussuosa berlina lunga quasi 5 metri definita dal suo design grintoso e sportivo. Punto e virgola rifinita con molta cura e comoda da guidare, ha come optional anche l'integra l'active steering, un sistema che fa sterzare anche le ruote posteriori migliorando l'agilità in curva. L'ultimo aggiornamento dell'anno scorso ha ampliato le dotazioni tecnologiche dell'auto, e ora non manca l'head-up display, optional. Se invece preferisci acquistare un usato, vieni a scoprire le imperdibili offerte sulle BMW Serie 5 usate. Mercedes classe è usata o KM0. Mercedes classe è al quinto posto della nostra top 10, la più classica delle berline della casa tedesca si presenta. Con forme armoniose capaci di unire sapientemente eleganza e sportività, con un abitacolo di classe ampiamente personalizzabile e, soprattutto, tecnologico. Buona la capienza del baule, che però sulle versioni ibride plug-in si riduce a soli 170 litri. Audi A5 Sportback. Leggermente più lunga della Coupe A5. L'Audi A5 Sportback è una 5 porte sportiva dalla linea molto filante, con un bagagliaio a cui si accede comodamente attraverso un grande portellone, l'abitacolo è molto curato e lo spazio a bordo è tanto. Chi la sceglie usata o KM0 può optare anche per le versioni S-Line Edition e Business, con un equipaggiamento che viene incontro alle esigenze di chi usa l'auto anche professionalmente. Scopri la Subroomroom. Trovi Audi A5 usata ai migliori prezzi. Audi A4. Settimo posto nella nostra top 10 relativa alle migliori auto del segmento di usate e KM0 per Audi A4, da molti anni tra le vetture più riuscite e apprezzate sul mercato in ogni sua versione, allestimento e potenza, si tratta infatti di una vettura che vanta una clientela molto variegata e che garantisce in ogni sua versione un abitacolo rifinito con cura e impreziosito da materiali pregiati. Dotata di accessori tecnologici sofisticati e proposta con motorizzazioni diesel, benzina, tutte sovralimentate. Ti piacerebbe acquistare un Audi A4 usata? Sul nostro sito ti aspettano tante offerte convenienti tutte da scoprire. BMW Serie 4 Gran Coupé. Ottavo posto per la BMW Serie 4 Gran Coupette, la cui seconda generazione è arrivata nel mese di novembre 2021. Questa novità porta a un ribassamento dei prezzi della versione precedente, che potrete acquistare usata o a KM0 portandovi a casa una vettura di classe dallo stile elegante e senza tempo. Scopri allora BMW Serie 4 usata o KM0 su Brum Brum. Maserati Ghibli. Penultimo posto nella nostra classifica delle migliori auto del segmento di, sia usate che KM0, per la Maserati Ghibli, appena più. Compatta della quattro porte, si tratta di un'imponente berlina lunga ben 4,97 metri e larga 1,95 contraddistinta da una linea muscolosa e filante, con la grinta di una Coupé. La vettura rappresenta un connubio perfetto tra sportività e lusso, ed è disponibile con diverse motorizzazioni, tutte dotate di cambio. Rapido automatico sequenziale ZF a 8 rapporti. Volkswagen Passat. Chiude la carrellata a un'altra grande classica, sia berlina che station wagon, Volkswagen Passat. L'auto infatti rientra a pieno titolo. Tra le migliori del segmento di usate e KM0, visto che è da sempre molto amata per la sua solida comodità, anche nella guida. Chi vuole la versione più recente usata o KM0 può optare per quella del leggero restyling della primavera 2019, arricchita nei contenuti. E' sempre assai capiente, sia nella versione variant che berlina. Sul nostro sito puoi trovare offerte convenienti per Volkswagen Passat usate. Leggi anche, le migliori auto usate e a KM0 del segmento alle migliori auto usate e a KM0 del segmento B le migliori auto usate e a KM0 del segmento C. B le migliori auto usate e a KM0 del segmento